Hello everybody, Steffi Serra, Dio vivente in cielo in terra, guardate l'agua, guardate, guardate, la meraviglia, ecco che sta, guardate, guardate qui, qua si inizia già a vedere, guardate un po', guardate un po', chi c'è lì? Eh? Il regalino, eh? C'è il regalino, regalino mattutino di Steffi, vedete che di buon mattino facciamo gli esercizi alle 7.22 in questo scenario molto bello, vedete qua, ecco qua, vedete questo è lo scenario di oggi, è lì ci prepariamo a Natale moderno adesso abbiamo un problema di immagine, ma ecco qua, oh di nuovo, di nuovo un problemino di immagine, eccolo qua eccolo qua, secondo voi, vabbè, è più un'alba o più un tramonto questo, perché io vi ho fatto vedere l'ora, ma potrebbe, potrebbe, è un'alba o un tramonto questo qua?